Allora, vediamo due modi di parametrizzare le superfici, uno è la parametrizzazione di un grafico e l'altro è la parametrizzazione di una superficie di protezione. Entrambi i modi, diciamo, la somma di questi modi copre un po' tutti le possibili, quasi tutte le possibili, i possibili tipi di superficie che incontrerete. E, diciamo, se avete capito questi due, poi capite anche in generale come si fa a parametrizzare una superficie generica, insomma, se ha una parametrizzazione semplice, non sempre una superficie riuscite a parametrizzarla perché magari ha una parametrizzazione molto difficile per cui poi ci incontreremo poi dei teoremi che ci aiutano a dire un mucchio di cose sulle superfici, a in qualche modo trovare quello che ci serve senza bisogno di una parametrizzazione esplicita. Vediamo come si parametrizza intanto il grafico. Il grafico è forse l'esempio più semplice. Allora, intanto un grafico nel reflex, cos'è? Prendete zeta, poi la coppia xy e prendete qua un dominio omega, che è il dominio della mia funzione. Il grafico sarà qualcosa che parte da ogni x qui sopra associa, facciamo concavo che è più simile ai grafici che si di solito, tanto così. Questa superficie è z uguale a f di xy, dove f è una funzione che va da omega in f. Questo se lo guardate bene è praticamente già parametrizzato, perché è una variabile e la terza dipende dalle altre due, quindi se usate queste due come parametri avete già la parametrizzazione. Quindi sostanzialmente è già parametrizzata. Ma se vogliamo essere formali e usare lo stesso tipo di linguaggio che usavamo prima, cosa facciamo? Praticamente nel piano uv copiamo omega, facciamo una copia di omega, in maniera che la mia r cosa farà? Associerà al punto uv un punto xy, in maniera, l'identità, perché fare la copia vuol dire fare la mappa identità, e al punto z f di xy diventa f di uv, quindi in sostanza r. diventerà x uguale a u, y uguale a v e z uguale a f di uv. Giusto per notazione, io alle volte uso questa notazione, io, non solo io, con le superfici di solito ci usano questi due tipi di notazione. Questa che, diciamo, neanche più in evidenza qual è la mappa, cioè dice esplicitamente quale legge lega una coordinata, coordinata per coordinata, o una notazione più comoda dal punto di vista vettoriale, cioè vi dice direttamente qual è il vettore risultante. Ok, io userò indifferentemente tutte e due e molto spesso passerò da una all'altra durante lo stesso esercizio, durante la stessa lezione. Ci sono rv e rv, sono molto facili, perché essendo funzioni così semplici, le derivate sono banali, perché derivata rispetto a u, tv è 0, perché è una variabile indipendente, questa è derivata di f rispetto a u, rv è 0, 1, fv. Il vettore prodotto, facciamo rv, vettore rv, i, j, k, 1, 0, fv, adesso è stato anche determinante. Questo viene i, si prende questo minore qua, antidiagonale, quindi spunto al segno meno, meno fv. j, si prende questo minore, fv, spunto al segno meno perché siamo in seconda posizione, k, si prende questo minore, il determinante v. Questo è il mio vettore, che è il modulo determinante, cioè il modulo di questo oggetto qui, il modulo del prodotto detto, è la radice quadrata di questo al quadrato, quindi derivata di fv al quadrato, derivata di fv al quadrato più 1, che è scritto in termini più semplici e più immediatamente fluribili, è 1 più il modulo del gradiente di f al quadrato, perché questa è la derivata rispetto alla prima componente, questa è la derivata rispetto alla seconda componente, quindi questo è il gradiente di f. Qui non sto nemmeno a scrivere rispetto a v, rispetto a v, la funzione è quella, è derivata rispetto alla prima componente, è derivata rispetto alla seconda. E questo ha un bel vantaggio, perché la parametrizazione di un gradico, vedete che è sempre diversa da zero. Come sono fatte le linee coordinate per una funzione definita così? Tanto per capire un po' come funziona. ricopio un po' il disegnino di prima, lo rifaccio così non lo sporco, facciamo un po' più arcuata, così si capisce meglio. potremmo essere più arcuato, ma anche più preciso. Ok, questo è il mio grafichetto. Allora, come sono fatte le linee coordinate? Beh, mi muovo in direzione, questo è U, questo è la quadrettatura. Questo qui viene praticamente sollevato qua sopra, perché questa linea qui me la riscrivo, mi muovo in orizzontale, quindi vedo, cioè trovo quel percorso che mi, diciamo, riproiettato farebbe questa ombra qua, quindi sarà qualcosa del genere. Questa cosa qui verrà così, eccetera, eccetera. Quell'altra rimane dietro, diciamo che rimane dietro, che cosa non la faccio. Queste linee orizzontali sono, le sollevo ugualmente, quindi diventano linee che vanno così e poi finiscono dietro. Questa va così, andiamo un po' più dritta, va così e poi finisce dietro. Facciamo, si sono portati un po' storto, dopo si capisce proprio, faccio un po' più dritta. Questa va così e poi finisce. Finisce dietro, questo va così e poi finisce dietro. Quindi, praticamente, state proprio prendendo questa griglia e la trasportate su e l'appiccicate per venino alla forza. Oppure, diciamo, un'altra, per capirlo, immaginate che questa griglia sia fatta dei fili di ferro, poi costruite questa griglia qui di fili di ferro, poi se la guardate dall'alto in realtà vedete che è la quadrettatura che avete già sul piano, ok? Quindi le linee coordinate in questo caso sono più diritte possibili. Quindi, diciamo, per chiarire un po', cioè per darvi un'idea anche un po' concreta di quello che succede, questa è una di amministrazione qui è comodissima per quel che riguarda la regolarità e usa molto il fatto che sia un grafico. Chiaramente le linee coordinate, diciamo, sono molto più legate alla geometria di R2, cioè sono quelle di R2 tirate su che ha come fatto la superficie. Nessuno, per quanto la sfera si possa parametrizzare così, almeno la mezza sfera, poi se non la vedete solo la mezza sfera, la potete parametrizzare così, ma non ottenete i meridiani paralleli che in qualche senso sono la maniera più ragionevole di dare una coordinata sulla sfera. Cioè questa, diciamo, che vede di più la struttura di partenza dello spazio plilevo di R2, che è la struttura di come è fatta la superficie, non è molto adattata alla superficie. Queste coordinate non vi danno una chiarissima indicazione di come si è fatta la superficie, però è molto comoda perché è semplicissima e si fanno bene i conti, quindi ha pregi e difetti. Il pregio è che, appunto, sfruttando molto più la struttura dello spazio di partenza, quindi di R2, che della superficie, i conti sono facilissimi perché li fate in R2. Vedete che il vettore è pensato alla schifrezza che era la sfera, e questo qui è una stupidaggine. E anche nel caso della sfera è una stupidaggine perché la sfera è x quadro più y quadro, z quadro, eccetera, eccetera, quindi qui avete da fare la derivata della radice di 1 meno x quadro meno y quadro, insomma, è una derivatina, si fa subito. E adesso viene tutto facile, quindi i calchi sono più facili. Però, se guardate, le linee coordinate vi danno meno informazioni, sono meno autoesplicative, diciamo. Conoscere le linee coordinate, la struttura delle linee coordinate non vi dà un'intuizione di come è fatta la superficie. È meglio o peggio dell'altra? Dipende da quel che ci volete fare. Non è che sia meglio parametrizzare, cioè se una cosa si può parametrizzare sia come grafico che come superficie di rotazione o in un'altra maniera che è ancora più fantasiosa allora dovete scegliere una delle due parametrizzazioni per forza. Scegliete quella su cui vi sentite più sicuri e che vi sembra, dica di più, sia più facile da maneggiare per ottenere quello che volete ottenere dall'esercizio o dal problema. Quando avete un problema davanti dovete capire, dovete provare qual è quello che si adatta meglio o ai vostri gusti o al problema. Possibilmente a tutte e due. Così vi è una cosa facile e significativa. Vediamo le superfici di rotazione, quindi parametrizzazione. come è fatta una superficie di rotazione. prendiamo al solito come prima il mio asse x, y, z e prendiamo una curva, faccio un pochino più spessa questa qui è una curva, se volete gamma di t di coordinate x di t 0, z di t cioè, se io poi la proietto questo è x di t questo è z di t dopodì cosa faccio? la faccio ruotare intorno all'asse z ok, questa è la mia superficie di rotazione come faccio a parametrizzarla? cioè a usare il meccanismo con cui l'ho costruita per parametrizzarlo? beh, l'altezza della superficie è z di t questo è fuori discussione quindi t qui starà, non l'ho scritto t starà fra due valori a e b quindi sfrutto da una parte la parametrizzazione della curva e dall'altra il e come ho generato la curva quindi l'altezza, questo punto generico ha altezza z di t quindi r di t è l'ultima cosa è z di t questo è facile ho le x e le y cioè, una volta che abbiamo fissato la quota questo cerchiettino qui è un cerchio di raggio questo cioè, la distanza questo segmento qui e questo segmento qui è lungo x di t quindi nelle x e nelle y se guardo dall'alto vedo un cerchio una circonferenza anche anzi che si ottiene facendo ruotare attorno all'asse z un raggio di lunghezza x di t e quindi è x di t cioè il raggio la distanza dall'asse z per il coseno di un certo angolo t x di t per il seno questo è un x di t e il t x di t per il seno di t ok? quindi ho le due variabili t sta in a b come la parametrizzazione originale e t deve fare tutto il giro e quindi lo mettiamo tra 0 e 2 di greco va bene? quindi questo genera la curva come si diceva prima le linee coordinate in questo caso sono molto belle perché se queste le linee coordinate questo è il vostro oggetto è questa queste qui le circonferenze sono queste sono r di t con 0 t cioè se fissate una t praticamente fissate una quota e vi muovete lungo t quindi disegnate una circonferenza e le linee invece le altre linee coordinate sono quelle che in cui fissate una direzione e tagliate praticamente con un piano che forma un angolo θ con passate per l'asse 0 e che forma un angolo θ col piano con l'asse x quindi questi sono r di t θ 0 e vedete che vi è una struttura meridiane parallele in riferente ok se voi viveste su una terra fatta in questa maniera queste probabilmente sarebbero le coordinate che usereste sono quelle più comode di sicuro non vi mettete questo è anche un grafico se volete però mettervi a grigliare questa cosa qua vi fa venire delle linee coordinate curiose cioè una per esempio pensate a muovervi lungo l'asse delle x questo sarebbe un pezzo qua e un pezzo qua poi avreste delle linee che sono fatte tipo gaussiana è meno è meno adattata alla struttura della della cosa cioè non vi accorgere che c'è una simmetria non sfruttate una simmetria sfruttate solo che sia fatta come un grafico detto questo quindi le linee coordinate sono molto belle purtroppo quello che si fa perché i vettori tangenti non sono così belli e quindi rt è ora la dipendenza da t la do per buona quindi non sto a scrivere tutte le volte x di t x punto di t perché se no impazzisco allora rt deriviamo rispetto a t quindi qui immano un x punto coseno di teta x punto seno di teta e z punto derivata di ero rispetto a teta è se potete ancora più facile perché questa rimane x dell'ora che c'è coseno di t meno seno quindi x meno seno di teta x coseno di teta x è ovviamente x di t e questa dipende solo da t e quindi la sua derivata è zero vettore normale quindi rt vettore rteta cioè il prodotto vettore fra i due fra i due oggetti i j k x cos x punto cos teta x punto sen teta z punto cioè ricopio questo ottore qui meno x sen teta x cos teta zero e facciamo il determinante questo lo ammazziamo e viene z punto x quindi x z punto cos teta con un segno meno perché sono sull'antichiamonale qua j questo è zero viene intanto scriviamo poi guardiamo il segno x z punto sen teta il segno è ho un meno qui perché sono in seconda posizione un meno qui che siamo sono sull'antichiamonale e un meno qua e quindi non meno k questo viene x x punto per cos quadro più perché qui sono sull'antichiamonale x x punto sen quadro quindi viene x x punto che fine ho un modulo del vettore r di vettore per teta vettore r e x punto x quadro zero punto quadro per cos quadro più x quadro zero punto quadro per se quadro più x quadro x punto quadro sotto radice e quindi viene modulo di x radice di x quadro punto più z punto quadro questo è diverso da zero se è solo se modulo di x diverso da zero perché perché questo è il vettore tangente questo se volete è modulo di gamma punto e questo è diverso da zero perché la curva la prendete regolare ovviamente se partite da una curva non regolare e ottenete una cosa non regolare x punto diverso da zero vuol dire che per avere una cosa regolare voi non volete che questa cosa qui attraverso chi lasse zero ovviamente dovete prendere chiaro che io non voglio prendere una cosa cioè x di t deve essere per forza maggiore uguale di zero perché se faccio una cosa così poi diventa una cosa complicata quindi di solito si può fare però viene diciamo io voglio vabbè insomma diciamo dipende no questo non è detto potrei anche prendere una cosa che attraversa e una cosa comunica comunque tanto per fare qualche esempio per farvi capire esempi dove non è regolare l'abbiamo visto prima esempio facile la sfera infatti ai poli abbiamo già visto qui non è parametrizzata regolarmente mentre la sfera la potete mezza sfera la potete parametrizzare regolarmente come grafico oppure altro esempio facilissimo c'è un terzo asse mi sono scordato ma ci siamo capiti altro esempio facilissimo il cono partite da una retta anche o meno isoscele e ottenete il cono e anche qui di nuovo qui non è regolare attenzione c'è una differenza tra queste due perché mentre qui è una questione di parametrizzazione io potrei localmente questa parametrizzarla come grafico prendere un'altra cuba generatrice qui non c'è un'unica mappa che sia regolare ma potrei tagliare a pezzettina spera mai di parametrizzarla regolarmente qui un piano tangente c'è è la parametrizzazione che è irregolare qua un piano tangente è un cono non lo potete fare oppure cose più strane appunto anche cose un po' pittoresche se prendete una cosa fatta così un seno per esempio ottenete una cosa strana che si interseca molte volte avrà tutti i punti qui dove non è regolare una cosa che sembra un po' un crotolo di salsicce insomma tanto per usare un'immagine molto poetica però qui non è regolare e ancora una volta qui è veramente non regolare perché la superficie addirittura c'è se di essere una superficie per il punto lì è un punto c'è una struttatura quindi lì non abbia le tangenti ok tanto per fare qualche disegnino e qualche esempio allora vediamo l'esempio che abbiamo detto prima c'è un esempio che è molto carino perché ripete un po' il discorso che si faceva prima cioè prendo z uguale a x quadro più y quadro con x quadro più y quadro che stanno fra 0 e 1 ok questa la posso parametrizzare come grafico oppure come superficie di rotazione allora come grafico è facile quindi 1 come grafico 2 come superficie di rotazione 1 come grafico è banale perché quindi devo prendere u e v che appartengono a x u a un cerchio a u quadro più u quadro è minore o uguale di 1 e r di u v è u v u quadro più v quadro quindi per esempio f u è uguale a 2 u f v è uguale a 2 v e il modulo di r u vettore r v è la radice quadrata di 1 più 4 u quadro più 4 u quadro ok che è sempre regolare ovviamente è regolare per ogni u e v e questa cosa qui lo fate senza nemmeno capire che superficie è per questa non c'è bisogno nemmeno di insegnarla è una superficie basta siete sicuri che la vostra prima utilizzazione copra tutta la superficie perché non fate altro che copiate questo qui per avere lo spazio omega questo è l'insieme omega di partenza e copiate la definizione della funzione qui quindi qua non c'avete da capire niente della funzione se volete usare invece il metodo 2 dovete capire qualcosa della funzione quindi proviamo a disegnarla cioè come faccio a sapere intanto che è una superficie di rotazione beh perché diciamo z uguale a x quadro più y quadro dipende qui la dipendenza è da x quadro più y quadro non dai singoli dalle singole variabili x e y cosa vuol dire vuol dire che il valore z è costante sulle circonferenze x quadro più y quadro uguale a c cioè non dipende dipende solo da la distanza di del punto x y dall'asse z o se volete il punto x y z ma z in questo caso punto è la distanza all'asse quindi dipende solo da questo dall'asse z ok quindi cosa vuol dire come se voi questa è se volete quindi vuol dire che è generata dalla curva z uguale x quadro e se voi disegnate questa parabola questa è z uguale x quadro questa è la curva generatrice va bene quindi poi la fate questa la scriviamo un po' in verde più bellina la scriviamo anche più grasso l'attello quindi questa qui è la curva generatrice un pezzettino di parabola che poi voi fate girare in quanto è molto schiacciata come parabola ma non ci siamo capiti va bene quindi la vostra funzione è questa quindi diciamo per paramilizzare una cosa come superficie di rotazione vi dovete accorgere che è una superficie di rotazione tipicamente superficie di rotazione dipendono dal quadrato di questo oggetto cioè dal somma dei quadrati delle coordinate poi possono essere una di quelle che disegnano prima può rimettere al seno di x di y quadro il cono della rodice di x quadro di y quadro eccetera eccetera quindi questo è un pezzettino di circonfidenza di sfera ora che abbiamo capito chi è la curva generatrice questa qui se volete quindi la curva è un'altra maniera di scriverla è gamma di t z è uguale a t quadro quindi t zero t quadro cioè parametrizzo questa questa è la forma parametrica e ora ho tutto quello che mi serve perché allora r di t teta è la x è t quindi viene t cos teta t sen teta t quadro t sta fra 0 e 1 e teta sta fra 0 e 2 pi greco sono sicuro di aver parametrizzato la cosa osservazione z di t è uguale a x di t al quadrato più y quadro di t e x di t quadro più y di t quadro è minore uguale di 1 quindi la parametrica quindi ho parametrizzato bene perché soddisfa questa cosa qua e la condizione che x di t quadro è minore di 1 che ho scritto nella pagina prima non vado a ricercare ho parametrizzato bene è regolare è regolare si fa il coticino di prima quindi andiamo a pescare questa formula qui che non è questa e questa qua giù quindi è modulo di x per radice di x punto più z punto quindi r di t questa è una situazione che mettiamo per conto proprio così non ci dannoia allora modulo di r t vettore r t abbiamo detto è modulo di x di t per la radice di x di sì per la radice di x punto quadro più z punto quadro questo è uguale a x di t e t diciamo chiamiamolo chiamiamolo gamma perché la pulgola chiamata gamma è meglio più pulita se no x è questa qua non si capisce z di t t se no faccio confusione fra le variabili questo è il modulo di gamma 1 di t per la radice del modulo di gamma punto ecco il dato cioè per vabbè scriviamo per bene gamma 1 punto quadro di t più gamma 2 punto quadro di t cioè questo è uguale a gamma 1 punto e t quindi t t sta fra 0 1 quindi è sempre positivo per la radice di gamma 1 punto al quadrato è 1 più questo è t quadro quindi 2t al quadrato 1 più 4t quadro che è maggiore di 0 se e solo se t è diverso da 0 quindi in questa parametrizzazione questo qui la parametrizzazione non è regolare non è regolare d'altra parte lo sappiamo la sfera parametrizzata per per rotazione non è regolare in ai coli qui è mezza sfera c'è solo il pole sud o facciamo un esempio più difficile cioè più più difficile più elaborato più interessante esempio il toro in matematica il toro non è quello con le corna ma è la ciambella quella di film dei puliziotti di film amicani o se andate qui alle vancarelle è il frate quello che si manda diciamo il popolo è il frate quindi come è fatto da cosa è generato beh il toro è generato da una circonferenza se volete fare una ciambella un un automatico prendete una circonferenza e la fate votare quindi come deve essere fatta questa circonferenza c'è un raggio grande e un raggio più piccolino questa è la vostra circonferenza e poi voi la fate votare e ottenete la vostra ciambella ok magari un po' meglio di come disegno io ma ci siamo capiti va bene oh quindi come è fatta la circonferenza in verde pulpa generatrice gamma di t è allora x di t questo qui è questo punto qui a coordinate r piccolo di t cos theta e poi vabbè 0 perché questo è x y z quindi rt piccolo di t e poi r piccolo di t senteta questo parametrizza questa circonferenza però poi non la spostiamo nella x di un pezzo r quindi il centro di questa circonferenza è 0 r quindi questo è gamma di t quindi gamma di t è r di t scusate r di t r poi lo correggo in post produzione ricorreggo il file ora se no ci perdo molto di tempo r coseno di t di teta più r più r 0 r seno di t e quindi la mia parametrizzazione r di t e teta e no si chiameranno teta forse questo qui me lo chiamo phi è meglio questo angolo lo chiamo phi perché lo chiamo phi perché così poi teta lo uso per la rotazione quindi questo è l'angolo phi e poi diciamo lo faccio rotare lungo teta quindi r di phi teta è x r cos phi più r il tutto più r grande e il tutto per coseno di teta poi y la stessa cosa per il seno di teta z teta è invece si ricopia la parametrizzazione dove variano gli angoli beh sia phi che teta stanno in 0 2 pi greco perché faccio il rione a circonferenza quindi faccio tutto il giro e poi rifaccio tutto il giro o è regolare beh a questo punto sì perché il modulo t r phi vettore r teta è il modulo di questa cosa qua è r cos phi più r grande per la radice delle derivate di questo rispetto a phi per r seno di phi al quadrato più r cos phi tutto al quadrato ok cioè prendete questa e la derivate rispetto a phi e quindi viene r sen phi questa viene r meno cos phi cioè meno r cos phi poi fate al quadrato e quindi la stessa cosa e quindi questa cosa qui viene r per modulo di r coseno di phi più r ora questo oggetto qua questo è maggiore di zero perché r cos phi più r è di sicuro il modulo più piccolo cosa può essere alla peggio qui la peggio è quando questo vale meno 1 e sottraete questo è r meno scusate questo non è più piccolo questo è più grande cosa può succedere alla peggio alla peggio può succedere questo diventa molto piccolo più piccolo possibile quando questo è meno 1 e quindi questo è più grande di r grande meno r piccolo che è maggiore di zero poi r maggiore di zero e quindi questa è regolare o se volete è il discorso che si faceva prima qui sto ben lontano da zero e qui non ho grossi problemi ok e quindi avete imparato anche a parametrizzare diciamo le ciambelle le donuts dei film va bene direi che per questo la può bastare e quindi Grazie.